Ben ritrovati a Tamburo Battente, la trasmissione settimanale di Teleliguria Sud che conduco insieme al collega Renzo Raffaelli. È la prima trasmissione del 2019 e ovviamente auguri a tutti voi di buon anno e noi oggi abbiamo scelto come ospite, il primo ospite dell'anno, Dario Vergassola. Lo conoscete tutti, è uno spezzino doc, è uno spezzino che ama la sua città, è uno spezzino che appena può, libero dagli impegni, corre e viene in riva alla sprugola perché lui la sua città l'ama veramente, anche se poi ci scherza sopra, però noi lo sappiamo, è attaccatissimo alla sua città. L'abbiamo invitato per parlare un po' di questa città, della trasformazione di questa città. Le cose, qualcosina sta migliorando la città, è già cominciata da qualche anno. Turisticamente sta andando alla grande, avete visto i dati turistici dell'ultimo anno, la spezia è cresciuta più di tutte le altre province della Liguria, grazie forse anche al successo che hanno nel mondo le 5 terre. Dario Vergassola oggi è qui con noi, allora la prima domanda che mi viene spontanea, come vedi la spezia nel 2019? Tanti auguri a tutti, perché visto che vale ancora, ci siamo ancora nel 2019, un anno più vecchi, però come vediamo spesso, io la vedo sempre uguale, nel senso che sono contento di vederla ogni tanto, anzi non ogni tanto, ogni spesso, perché io sono di quelli che quando mi vedete per strada vuol dire che sono disoccupato. È cambiata l'amministrazione però Dario. Lo so benissimo, all'amministrazione ce ne siamo accorti, benissimo, ci siamo accorti l'amministrazione con tutte le polemiche, tutte le innovazioni e tutto, però l'amministrazione è cambiata e devo dire la verità, non sta a me dirlo, perché io poi sono sempre in conflitto più o meno con chi comanda, nel senso buono, però quindi ci ricordiamo tutti gli appunti fatti. Con questa amministrazione che io ancora conosco tipo Asti, perché lo conosco bene, abbastanza bene, anche da prima lo conoscevo, per Achini ci ho già avuto modo di parlare e fare le altre cose, gli altri non li conosco ancora, so che c'è un lutto straordinario, so che Biberario è andato in pensione, questa è una cosa che va detta, ricordiamo, Biberario è andato in pensione, quindi questa mi sembrava già una notizia da dare, lo salutiamo, lo troveremo ai giardini che dà da mangiare ai piccioni senza farsi denunciare. Tu che ne hai peghiati più spesso con lui, immagino. Ritorneremo a giocare a bocette al bar, però devo dire che, non so, intanto per esempio io sono a fare, sono nella stagione del civico e questo è un evento. Ma ci voleva il centrodestra per portarti al civico? Ci voleva il centrodestra per portarmi al civico, come in realtà ho trovato delle città che mi fanno fare delle cose di, non so, di festival piuttosto che, che sono fondamentalmente di centrodestra. Questo può essere anche, tutto sommato, una buona logica, nel senso che uno cerca di lavorare dove va e se funziona funziona. Farai, Dario, la tragedia delle Camelie con Riondino, te lo spieghi rapidamente? Tanto arriviamo da un capodanno straordinario che abbiamo fatto a Milano, ora spieghiamo, perché Capodanno Spezzino, ma è tornata benissimo, c'è un sacco di gente, l'avete fatto in Piazza Verdi, l'hanno fatta, stai contento e quindi mi sembra che sia andata bene. Pischeddina Leonardo, il figlio di Antonello, insomma, che ormai è come si riesce a camminare da solo, da solo, le gambe, tutto, perché noi pensiamo sempre, lo vediamo come se non fosse solo familiare. Invece, invece, è riuscito a fare una roba, un giorno mi ha chiamato e mi ha detto, faccio il concorso di idee per il festival, per l'ultimo dell'anno di Milano, che è una roba molto, molto importante. Dice, no, non ci riusciremo mai a fare, però se te vieni presenti, di qua, di là, no, posso metterti nel mio progetto e di guarda, volentieri, facciamolo. Milano mi sembrava veramente, con tutto rispetto per tutti, ma mi sembrava una cosa, ha vinto, ha vinto Leonardo, è stato bravissimo, è stato su, e vuole fare i complimenti, perché è veramente questo nucleo spezzino strano che si è sposato a Milano, da quasi un festival spezzino, perché intanto c'era Gabbani che è Ortonovo, adesso non confondiamo poi Carrara con quelle altre cose, che lui è mezzo carrerino, quindi lasciamolo stare dove è, però è stato bravo, insomma, pieno di gente. E insieme a Antonello e ai suoi collaboratori, che sono spezzini, c'erano anche dei tecnici, audio, quindi insomma, un palco di quelli enormi, veri, quelle cose da concerti enormi, quindi è una roba, insomma, milanese, tutta una roba, con 20.000 persone messe proprio in un modo quasi militarizzati, con 150 persone di sicurezza, quindi ha messo in piedi una roba, sinceramente, che ci vuole un po', ci vuole, ci vuole della capacità. Milanesi è piaciuta questa cosa? È piaciuta tanto, tra l'altro, vuol dire, milanesi a mezzanotte un quarto è finita, a luna meno un quarto io ero già letto, ma passavano già la roba per pulire, eravamo già messo tutto a posto, la mattina c'era già la gente in bicicletta, quindi una roba molto continentale, molto nordica, quindi molto contenti, quindi diciamo, hanno fatto una bella figura gli spezzini anche lì, qua quindi è stata buona anche qua, quindi diciamo, sia assi da una parte, sia pischia dall'altra, si sono levati secondo me delle soddisfazioni. Detto questo, io sono nel calendario del civico con Riondino a fare la traviata delle camellie. In cosa consiste? Consiste un lavoretto, un giochino che facciamo io e Davide, abbiamo fatto tipo anche quest'estate, qualcuno sarà venuto di Spezia, sicuro, perché c'è un sacco di gente a Luni a fare il viaggio dell'Odissea, dove Riondino fa il saggio, quello che capisce, quello che sa tutto e spiega a me, che sono molto ignorante, spiega questa storia qua. Quella che faremo a marzo, non mi sembra capire. Aprile, aprile. Il civico è l'idea di Davide, racconterà al pubblico una storia bellissima che è la signora delle camellie, scritta da un figlio. In questa storia qua c'è tutta la storia che racconta lui, mentre io farò quello un po' il pierino della classe, mentre la profe spiega, però col microfono, quindi posso dire quello che voglio e faccio un po' la parte del pubblico che quello che capisco, capisco, quello che non capisco, io lo faccio di spiegare, però con delle battute per non farci come a scuola quando un'ora dura di meno se si cazzeggia, e nel frattempo quello succede però, che siccome Verdi ha utilizzato questa storia per scrivere la traviata, sul palco ci saranno tre musicisti e ogni tanto irromperà nella scena una meravigliosa cinese, molto alta, una soprano meravigliosa, si chiama Bei Bei, fantastica, famosa, brava, e canterà delle piccole arie, quindi uno viene lì e si becca un po' delle risatine di cazzeggio. Davide che racconta un bellissimo libro, sentirà delle arie musicali da due minuti naturalmente, diciamo, e un minuto della cantante, quindi interverrà quattro o cinque volte, tre o quattro, non mi ricordo, quindi per dare le arie verdiane, e quindi con un botto si porta a casa lirica, musica, racconto e cazzeggio, insomma, quindi riusciamo a forzarlo qua. Detto questo... Senti Dario, l'estate Spezzina come la giudichi e soprattutto il gruppo Spezzina come mai il risultato è stato escluso? Beh, secondo me non è stato il gruppo... cioè, qui è una roba che purtroppo viene da una specie di difformità dell'assegnazione delle cose che sono state fatte. Intanto tutti quelli del gruppo che c'erano all'impinettina, tutta gente che conosco, tutti bravissime persone, molto esperti, e col tempo sono diventati anche molto bravi e si è sentita un po' la mancanza di questo tipo di serate alla pinettina, però non c'era un bando, fondamentalmente il problema è che non c'era un bando di assegnazione alla roba, quindi ha dovuto probabilmente questa giunta mettere un paletto a questa roba qua, ci voleva un bando per gestire questa cosa qua, quindi poi gestita meglio o peggio non sta a me giudicare, però diciamo che il fatto che fosse stata senza bando dava un po' origine a delle polemiche che la gente, che altri gruppi spezzini dicevano perché noi no e questi sì, perché noi abbiamo un ristorante e noi dobbiamo chiudere e l'aria rimane aperto fino alle due, perché la fan musica a noi ci chiudono la roba, quindi diciamo che dava un po' adito a delle polemiche che poi non facevano bene alla gente, specialmente perché dividevano un po' i giovani. Rimango dell'idea che il lavoro che hanno fatto questi qua della Pinettina, si parla di tutta la gente che c'era dentro, è stato buono, anzi ha costruito delle robe importanti. Peccato che non c'è stato un modo con il Comune di trovare una roba che fosse più un'assegnazione tra virgolette democratica, che poi va fatta in questo senso qua. Ma si può annunciare a luglio l'estate spezzina? Secondo me, guarda, qua io non so com'è andata, perché mi sa che si sono trovati troppo tardi con la rincorsa delle cose. E poi credo che sia stata anche la vittoria, perché poi hanno fatto questo bando, facendo il bando per l'estate spezzina, compresa la Pinettina, quella roba lì, e i bandi sono chi si presenta e chi fa un programma in base anche ai prezzi, tutto sommato vince qualcuno. Quello che ha vinto l'estate spezzina, tra l'altro mio amico, lo conosco, è anche bravissimo, e organizza però un grande organizzatore di concerti. Tanti concerti ne hanno fatti, però la parte degli spezzini si aspettava dalla Pinettina, da quella storia lì, una roba costante tutte le sere, io farei una serata di liscio, una serata di cinema, perché poi il film l'avano levati, quindi io rimetterei delle cose sensate. Il cinema è stato spostato addirittura nel parcheggio al Mirabello. Dovrebbe essere una cosa dove deve fruire chiunque compreso, ma veramente dal liscio a una roba super tecnologica. Devi accontentare tutti. Devi far tutto perché diventa uno spazio dentro la città e chiunque deve andare. Però mi hai proposto di fare il consulente dell'estate spezzina? No, l'estate spezzina però basterebbe proporsi e candidarsi, lì è proprio una roba dove c'è una roba legale, devi fare una domanda, devi fare una roba e ti ci metti. Io avevo in parte partecipato dicendo che se vinceva Pischè da Leonardo, ero diciamo col gruppo di Leonardo come tipo di roba, che poi ha perso per un problema di costi, queste cose qua, e ha vinto quest'altro ragazzo, ti dico sempre amico, che tra l'altro anche lui mi ha chiesto di fare la roba, quindi non c'era problemi. Ma si può affidarsi al ribasso d'asta per un'estate spezzina? Non è assurdo? Ebbene, ma sai, è un problema di costi. Adesso è chiaro che con meno soldi c'hai la famosa nozze con i fichi secchi va fatta così, però devi sottostare anche una legge che c'è sul discorso degli appalti, credo. Cioè devi appaltare la roba facendo dei concorsi, i concorsi li fai con delle gare di idee e credo che anche l'importanza del costo sia uno degli elementi per poi gestire la gara. Quindi non so come è andata quanto poco, quanto meno, quanto più, però insomma sono arrivati un po' di corsa, diciamo, questo non ce ne siamo accorti, sono arrivati un po' di corsa. Le serate però che hanno fatto, gente ce n'era lo stesso, qualcuno ha solamente lamentato, qualcuno era contento e quest'anno rivediamo come va. Secondo me devono prendere un po' le misure, ormai le hanno prese, ti dico, il capodanno mi è sembrato abbastanza, non ho sentito parlare bene, ti dico, non c'ero, ma io non sento parlare bene, quando se ne senti parlare male si sente, cioè quando una roba va male la senti, anche se si è affrontata a Milano. E però con, per esempio, con Asti abbiamo fatto questa roba, mi hanno chiesto di fare un po' delle cose che faccio io che sono interviste che avevamo fatto invece l'anno prima con Buffa, l'impiazza del Bastione, Buffa che raccontava di sport, piuttosto che filosofo Galiberti sull'amore, mi ha chiesto lui espressamente un tipo di formula così, abbiamo tirato fuori questo Non è mai troppo tardi, che sono come delle lezioni al popolo, dove io facevo sempre la parte, come questa storia che facciamo con Davide, con Riondino, dove chiamavamo qualcuno esperto di qualcosa che mi insegnava a me come se fosse un ripetente che andava a ottobre, mi sembra fosse quello il periodo, a ripetizione di qualcosa. Quindi abbiamo avuto giornalisti che mi hanno fatto scuola di giornalismo, io chiaramente cazzeggiavo, rispondevo, alcuni facciamo finta di non sapere oppure facciamo finta di sapere di più. Facevi l'ignorante. Facciamo un po' l'ignorante che mi viene benissimo, ci mancherebbe altro, sono portato, abbiamo fatto Canova che è un esperto di cinema, abbiamo fatto Donà che è un filosofo, abbiamo fatto un sacco di roba, ma sono delle lezioni, la gente è intervenuta numerosissima, tra l'altro sia alla Beghi che alla Mediateca Fregoso, tra l'altro, e con Sgarbi abbiamo fatto una bellissima serata al, come si chiama, al LIA, dove abbiamo messo anche due schermi giganti, brigatamente pieno da gente, che era bello assenziare a Sgarbi che faceva queste, sai come lui, che scoppia e tali cose, io ho cercato un po' di, un po' lo conosco. Certo Sgarbi che dà del criminale al vecchio sindaco Federici, poi invece riesce a conquistare il pubblico. Ma lì, insomma, lì sapete com'è Sgarbi, non è che va preso, va preso, io Sgarbi lo prendo sulle cose d'arte, che è molto bravo, le cose le sa, il problema è che quando riparte, lì si tappa con la vena lì, più delle volte strapparla, non è che devi capito, quindi quando diventa offensivo con la roba di tutto, io condivido il discorso di Piazza Verdi da sempre, poi questa storia che erano uscite le mazzette, le cose, quindi ti lascia anche un po'. Davide sei sempre stato molto critico con la passata amministrazione, a proposito anche di Piazza Verdi, come adesso stai dicendo, però bisogna anche riconoscere la vecchia amministrazione che Piazza Verdi avrà avuto, è costata troppo sicuramente, però sta funzionando perché gli spettacoli, hai già fatto due spettacoli, un'altra cosa che era presa dall'attuale amministrazione come un peso, il campo montagna, faremo il prossimo anno, faranno le qualificazioni per le olimpiadi al montagna, la mediateca funziona, c'è sempre pieno. Cioè qualcosa hanno fatto di buono. Cioè non è che qualcosa hanno fatto di buono dobbiamo essere contenti, erano pagati e hanno fatto di tutto per farsi votare, per fare quello, cioè non gli aveva chiesto nessuno, non è che hanno fatto volontariato, quindi detto questo che è gente che vogliono fare i professionisti li fanno, quindi il minimo che puoi fare è fare della roba, hanno fatto delle cose decenti, hanno fatto delle cagate e poi uno fa quello che spera. Io ribadisco che se ci vuole 110 mila euro quant'è, non mi ricordo, per pulire Piazza Verdi all'anno la trovo una cosa vergognosa, perché ribadisco ci sono tutte le periferie piene di rumenità da altre parti. Ora forse non è più così, insomma, hanno fatto comunque un concorso di idee, hanno fatto... No, fermi tutti, ma per la piazza? Per la piazza, sì. Adesso non volevo rientrare perché ne avevamo già parlato, io la piazza non discuto il fatto di Buren perché a me non mi piacciono quegli affari lì, però se ci mettevi le sfere di qualcun altro, oppure i cubi mi piacevano a me e non piacevano a te, quindi sull'arte contemporanea uno, io ti dico io avrei fatto una copertura in vetro per fare gli spettacoli anche coperti, con il wifi gratis, con i ragazzi che escono da scuola, ma lui avrei fatto la piazza S dove la strada passa così perché chiunque da parte della pasticceria dovrebbe avere anche l'entrata dentro la... cioè dovrebbe avere lui l'accesso al coso e la parte dei bar di là, la parte di qua, cioè se facevi una cosa fatta S, gli autobus passavano S, cioè una parte rimaneva questa, una parte rimaneva l'altra. Io ho fatto il manovale all'arsenale, quindi non voglio le mela alle scale, quindi non ho assolutamente da dare delle indicazioni, però c'erano mille modi. L'idea di come l'hai fatta, non posso discutere Buren perché ti dico se ci mettevamo un altro poteva piacere a me, non piaceva, quindi sul discorso di come è stata fatta no, sulle palanche che hanno speso, sull'illuminazione che è terribile, cioè l'illuminazione è veramente brutta, è una piazza buia, hanno levato le cose che c'erano prima ma adesso è proprio buia e è così. Poi una volta che l'hai fatta, l'hai fatta, ma è come quando hai fatto Piazza del Mercato, che è una cagata mortale e se Dio vuole questi qua pensano di rimetterci le mani. Ora ribadisco, se no sembra che non sono più polemico, ora l'idea di mettere la strada in mezzo con le macchine in Piazza del Mercato, la trova abominevole perché Piazza del Mercato, cioè era una piazza e far passare le macchine in mezzo a parcheggiare, chiaramente tutti i negozianti ti dicono sì, però non è che i negozianti, cioè non è che chiunque, è un tornare indietro davvero. Adesso io spero che rifacendo tutto, ritorni in una piazza e dentro non ci vada perché la mattina ti suonano a te mentre sei in giro quei sacchetti, come se fosse diventata una strada di passaggio così. Ora a fianco ci sono delle volte che sono gli stalli vuoti e la gente li mette tutti in fila dall'altra parte, uno scende, va a comprare la spesa, lascia di tre ore, cioè non lo so, mi sembra che ci sia un po' di confusione. Non hai ragione. Secondo me dovrebbero, non può, come quelli che parcheggiano le macchine nelle altre vie centrali dove sono i ristoranti. Tra l'altro, volete un po' di polemica? No, no, ma è giustice, ma io condivido perfettamente quello che stai dicendo. Allora, però per esempio, un'altra cosa, io vengo, stai bugi, direi bocco, ma stai bugi. Io trovo, andando in giro per gli stadi, per quelli che è il calcio, io non ho mai visto, non ho mai visto una città dove il giorno che gioca lo Spezia, potrebbe essere mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, lunedì, martedì, mattina, pomeriggio, dove c'è la giornata dell'anarchia. C'è lo Spezia, c'è lo Spezia e uno mette la macchina dove cazzo vuole, è impossibile. Succede così, eh? Ma voi non avete idea, la strada che va su per Pegazzano, che si sale da dietro, che si arriva su a Sant'Andrea, voi non avete idea, è una cosa dove parcheggiando da una parte, le macchine fanno fatica normalmente. Quando gioca lo Spezia, la gente, idioti, parcheggiano anche dalla parte di qua, quindi rimane un butello in mezzo che se viene giù una macchina, non si sale e si blocca tutto. Ora io domando, perché se gioca lo Spezia le regole non valgono più? Cioè perché c'è un giorno... Anarchia. Perché mi fate la multa, vigili, perché mi fate la multa in via le Garibaldi e non me la fate sulla via di Coso perché gioca lo Spezia? Io non passavo con la macchina, c'erano le persone anziane che non passavano, c'era un casino esagerato e i vigili stanno, saluto i vigili che fanno un'operazione meravigliosa, sono sempre presenti, però io sono andato a chiedere ai vigili che non mi fermi davanti, scusate ma ci sono i motorini sui marciapiedi della roba, sulla pista ciclabile, su tutto, perché non li andate a levare che la gente non può passare? E questi ti dicono perché io ho l'ordine di non muovermi di qua. Ora, se a Pegazzano ci sono le macchine dove mettono le strisce che non puoi parcheggiare e ce la metti, arrivano con carattrezzi e la levano, dalla parte di Bugi è una zona franca, cioè è la nostra zona franca dove chiunque può fare quello che gli pare. Ora, detto questo, ci siamo, io voglio fare una domanda e la dico, anzi sono contento, ma il giorno che ci passa un'ambulanza e non passa, il giorno che uno si sente male e non può andare all'ospedale, il giorno che succede qualcosa, la domanda che faccio qua è di chi è la colpa? Io adesso così, spero che diventi una denuncia e sia chiaro, cioè è il sindaco, è il prefetto, è il comandante della Polizia Municipale, è il vigile povero disgraziato, è il generale dei giovani marmotte, è l'ammiraglio in capo dell'Alto Tirreno, è il Presidente della Repubblica, cioè chi è che poi andrà a prendersi la briga di dire non passava l'ambulanza perché ci sono le macchine che sono anni, che sono messe in modo e la gente che ti entra nei portoni da una parte, da quella, cioè doppia fila, hai bugi, cioè io devo dire, siccome andando allo stadio, anche a Genova, che sono situazioni anche diverse, però ci sono vari blocchi di roba e arriva appunto allo stadio che o non ci parcheggi o almeno, cioè vuol dire, se uno c'ha un passeggino, perché non è che uno che sta passeggino non può più passare di lì, quando c'è l'ospedia hanno messo le transene, hanno chiuso una strada, va benissimo, facciamo quello che va bene tutto e c'è un pezzo così a fianco alla transena dove c'è via Fieschi, si passa di lì, ma se lì ci mettete 250 motorini in fila, perché il vigile non fa la multa al motorino in fila? La domanda è questa qua, uno che c'ha un passeggino di bimbi, dove cazzo lo la passa? Cioè perché diventa zona franca e non vale più niente? Ora perché a me mi fate la multa al venerdì sera se metto la macchina via Gramsci? Cioè perché? Ci metto la sciarpa con scritto Forza Spezia e allora non me la fate. Ti piace questa? Perfetto. Questo sul cazzo a tutti. Senti, tu giri l'Italia con le trasmissioni del calcio, ma questa città secondo te ha ancora possibilità di svilupparsi dal punto di vista turistico? C'è stato un boom quest'anno. Turistico, guarda, è impressionante perché quest'anno mi sembra 20.000 persone in più rispetto agli altri anni, non mi ricordo quanto siamo, lo ci dicevo dati oggi su un giornale. E sempre grazie, non è che forse grazie, c'è inevitabilmente grazie alle cinque tere, se no noi eravamo morti, distrutti, sepolti, seppelliti, con l'arsenale che non fa sanzioni, con i cantieri che chiudono, con il terziario che non esiste e con quelli fortunati che adesso lavorano a porto, però il resto è la morte civile. Grazie anche alle terrazze la città centrale è completamente morta, perché i ragazzini vanno tutto il giorno dentro all'ipento, commerciante. Siamo contenti, però anche lì è un travaso di gente che da qua la porti via. Quindi detto questa, questa qua è un'altra cosa che a me non mi è piaciuta tanto, però va beh, c'è e ce la teniamo. Però basta sentire quello che dicono anche quelli dei negozi, visto che gli danno a volte, gli chiedono dove vogliono il parcheggio, chiedete anche se volete il mega supermercato che porta via clienti da altre parti e sposta c'è la gente dal centro, però è quella roba lì. Però è il, il turismo è quello che ha salvato, lo dico perché lo dico in prima persona, i miei figli si occupano di recensione turistica, è venuta via uno da Milano, uno da Bologna, quindi è una roba che funziona, siamo contenti, rientrano, quelli che continuano a dire che il turismo non porta niente sbagliano, perché se arriva un milione e mezzo di persone a Spezia, compreranno anche un pacchetto di funzioni di carta, ma sono un milione e mezzo di funzioni di carta. Ora, basterebbe limitare quei negozietti che vendono tutte le cazzatine, le cose, cioè che diventa con la roba da miseria, per l'amor di Dio, e poi diventa la roba, il piattino, la cazzo, cioè basterebbe due e io non darei più nessuna licenza. Però lo dico, però il turismo ha un suo perché, il problema è questo discorso del B&B, perché i discorsi del B&B, quando i B&B mettono le camere a 30 euro, diventa secondo me un problema serio, perché non puoi gestire un B&B a 30 euro. Cioè, se ci metti dentro, io lo so per esperienza, se ci metti dentro lavaggio, affitto o cose, quella che fa le pulizie, tutto quello che ti pare, diventa un problema da gestire, tant'è che l'altrano hanno fatto in tutta Italia, la finanza, una roba a tappeto dove hanno preso due città campione e gli hanno fatto delle, come si sono andati a fare delle spezia, e ti auguri che anche qui succeda, è molto fuori che la metà erano in nero, quindi io mi auguro che anche a Spezia ci sia qualcuno che comincia a dire, cioè non puoi aprire 150 B&B all'anno, tant'è che voglio dire, è aumentata la gente, però i B&B hanno guadagnato meno, perché ogni anno ne aumentano, cioè il problema dei B&B funziona tutto, va benissimo, però è anche vero che se poi in centro chiunque fa il B&B lo deve fare, però se fosse regolamentato qualcosa, cioè i ragazzi di Spezia non trovano più una casa, cioè adesso diventa il problema, infatti così è, succede esattamente questo, la confidilizia infatti denuncia, fuori tua zia, no, che ha 110 anni, ti lascia due posti in via, una via dietro la stazione o quello che ti pare, o a un centro dov'è, facendo il B&B, però se devi fare un B&B a questi punti il comune devi intervenire e dire ok, fa il B&B, però, cioè devi avere questo tipo di argomentazione, questo tipo di roba, questo tipo di pulizia, devi avere le verifiche, devi avere le cose, devi farmi vedere quanto paghi di tasse, devi farmi vedere che non fai la roba in nero, perché se no allora diventa un massacro dal punto di vista per chi ha organizzato e ha fatto le cose spendendo le palanche e soprattutto per chi ci lavora e poi soprattutto perché se te diventa una città dormitorio da B&B, sta cominciando anche Bologna, perché poi non è che noi abbiamo iniziato un pelo prima, sempre di nascosto ai politici che dormivano perché non si erano resi conto che le 5 terre portavano gente, ma ribadisco i turisti non votano quindi non gliene fregava niente, però l'idea di mettere questa roba qua in rete, farla bene e soprattutto va supportata ma va anche controllata, devi riuscire anche a Bologna, ricominciano le case a aumentare nonostante le crisi immobiliari perché hanno scoperto i B&B e la gente facendo i B&B i giovani che vanno a cercare casa a Bologna per l'università non le trovano, noi spezzano, non le trovano i ragazzi che vogliono sposarsi in due o stare assieme o quello che vuoi, già c'è crisi di lavoro e tutto, più le case non si trovano più, quindi non lo so, sai che sono quelle cose difficili, un'economia liquida. Tu frequenti anche le 5 terre, sai che nelle 5 terre c'è un dato curioso, per ogni residente ci sono 92 turisti, non ti manca l'aria ogni tanto quando frequenti le 5 terre? No manca l'aria perché tanto manca l'aria, le 5 terre sono ormai, noi andavamo a Manarola, il baretto di Manarola non ce l'abbiamo più perché andavi al baretto, ti fermavi lì, quando c'era il tavolo libero giocavi a carte, ci stavi e tutto, adesso c'è la gente in fila, qui è un'economia straordinaria, inaspettata, non so neanche se se la merita qualcuno, però c'è e giustamente c'è, meglio che il petrolio dall'altra parte che inquina di più, lì c'è questa roba qua, però la gente che ci abita adesso comincia a fare due conti, si sono arricchiti, stanno tutti meglio, è un'economia che cresce eccetera e cresce anche in modo buono perché le 5 terre una volta non c'era niente, mi ricordo le case 30 anni fa erano case, ma non case terribili quando ne andavi in affitto, costavano poco, ma adesso hanno bisogno di fare delle stanze meravigliose, ci sono appartamenti che costano patrimoni, case fatte bene, le generazioni che fanno accoglienza e ricezione turistica si sono evolute, è gente che quando chiude vanno un mese in giro fuori, vanno a vedere le cose, è gente che ha avuto un'accelerazione anche dal punto di vista imprenditoriale importante, rimane fregato quelli che non hanno l'introito, il business, cioè se tu stai lì e fai l'arsenalotto e c'è solo casa tua e cerchi casa anche lì per i figli è un problema, cerchi di andare al bar è un problema e quando ti muovi sei un po', perché per quanto si dica di Venezia, cioè Venezia è stato di nuovo che è poco, però frequenta abbastanza, però Venezia ha la parte stazione, cioè c'ha due tipi di strade parallele che poi si rincrociano e vanno avanti e indietro, quelle dove passano i turisti e arrivi in piazza San Marco e la storia finisce lì, cioè però è grande, è una città enorme, ha 27 mila calli, canali, roba e tutto, quindi se te vuoi arrivare in piazza San Marco senza incontrare nessuno lo fai, ma a Manarola c'è una strada che scende e fa così. Ma tu saresti per il numero chiuso? Io sarei per un numero chiuso che a me mi sembra una roba che è un peccato, è una roba che mi dà noia dal punto di vista a pensare al numero chiuso, però è anche vero che portare i pullman in Littorania, 12 pullman che tappano la strada in una strada che non è mai stata fatta per avere 12 pullman, per gente che scende e vanno in 150, se uno fa il conto di quanta pipì fa 12 pullman all'ora in un posto così, diventa veramente una toilette esagerata per gente che fa la roba, quindi andrebbe tutelato anche chi va lì, c'è gente che spende a 500 euro a notte per dormire, ragazzi, una volta era al mese. Il numero chiuso fa paura, basta chiamare il numero programmato, chiamano diversamente. Però secondo me ci vuole qualcosa di più sensato, cioè ribadisco l'idea che le 5 terre andrebbero già viste, come se lo immaginano già tutti, come se fosse un'isola, capito? Cioè le 5 terre sono un'isola, ci devi andare per forza o col treno o coi vaporetti, chiuso, cioè finita la storia, usi dei treni, fai avanti e indietro, scendi alle fermate, abbiamo la fortuna che le fermate sono una metropolitana di Milano, romana, una fermata sono due minuti, tre minuti, quindi se te riesci a mettere in piedi quel tipo di spostamento lì e i pullman non ce li porti, perché i pullman sono delle teri, non possono entrare, cioè a Roma, e hanno fatto bene tra l'altro a Spezia a levare il pullman dalla stazione, cioè non è successo niente, però respiri di più, c'è meno casino. I pullman adesso sono tutti dalla parte dell'arsenale, è anche vero che lì, allora anche lì devi fare una roba, l'altro giorno sono stato a rompere le scatole, uno polacco che aveva il pullman che buttava tutti i sacchetti della rumenta dentro il cesticolo piccolo dove ci metti la roba del cane o la carta del gelato, questo ha incastrato tutto lì dentro, ho detto scusi ma sembra a modo, anche questo qua, secondo me ho detto sì ma qua non so, devo buttare la roba. E allora poi mi sono gelato in giro e in giro non c'è un cassone, non c'è. Questo dove, Manarola? No, via Fieschi. Via Le Fieschi. Ah, via Le Fieschi. Via Le Fieschi, si scendono da, ci sono 20 pullman con tutta sta gente a bordo, questi qua quando vanno tutti nelle cinque età che li mollano, poi questi qua si mettono lì, lavano, puliscono e tirano su tutto, poi fanno delle sacchettate di roba di rumenta e anche lì dici dove la butti? Allora forse mi dovrebbe dire, se mettiamo lì pullman, diamogli anche una piccola area ecologica, una bella telecamerina, telecamere in tutte le aree ecologiche e negli angoli perché noi ribadisco siamo dei maiali totali, questo discorso che cerchiamo di fare sulla raccolta differenziata che non ci si riesce, non è colpa del comune, è colpa nostra, non è, cioè io sto ai bugi e vedo cosa butta la gente per strada, cosa butta nei cassonetti degli altri, cosa butta nei sacchetti, quello che lascia lì l'umido piuttosto che la roba da mangiare, arriva al gabbiano, sparge tutto, cioè la colpa è nostra, io non ho mai visto tanto. Ogni giorno però Dario, piazzano nuove telecamere, annunciano nuovi controlli. Io sono favorevole alle telecamere perché le telecamere, non per la privacy che va benissimo, però le telecamere quando becchi la gente che mette i sacchetti nei posti che non ho messi devi fare una multa terrificante, devi veramente andargli a casa e fargli fare, ma una roba io li metterei in piazza mentana alla gogna della gente che li tira a rumenta, cioè piuttosto che la multa, perché non puoi, intanto è diseducativo per te, per i figli, per tutti, e poi non è possibile camminare in un posto, io ho smesso, ribadisco, saluto la gente di Biasa, saluto, però io non ci vado più, cioè io ho scoperto che Biasa era un paese meraviglioso all'interno, perché il piazzese piccolo, non l'avevo mai visto, è bellissimo, cioè non ha niente, è un paese straordinario, però se fai a piedi la strada da Pegazzano a prendere a Biasa si spaventa, ma neanche il terzo mondo ci fa una pippa, cioè c'è di tutto, dalle valigie ai sacchi alla rumenta, ora io penso che sia anche gente che arriva da fuori, va bene, ma lì non è che ci vanno gli astracomunitari, i negri, i cazzi, i brighi e poi andiamo a fare un discorso contro tutto il mondo, cioè lì è gente che sta lì, passa di lì e fa così dal finestrino e butta la rumenta nel canale, è roba che non la levi più, cioè quindi diventa brutto, è un posto così carino come Biasa, io dico Biasa ma ce ne sarà 40, sono discariche destinate a vivere lì per sempre, e poi noi vediamo la discarica e siamo fatti in questo modo qua, umanamente, dove vediamo tre sacchetti della spazzatura, cominciamo a buttarci il quarto, il quinto, il materasso e diventa rumenta, quindi io sono per l'idea che chi vede gente che butta la roba dove non va buttata, secondo me deve fargli una foto e denunciarla, deve andare dai vigili e fare questa roba qua immediatamente, cioè bisogna essere delatori in questo caso. Senti Dario, siamo nel 2019, ci avevano detto che nel 2020, alla fine del 2020, avevamo il nuovo ospedale, avremmo avuto il nuovo ospedale del Felettino, tu ci credi ancora a questo ospedale nuovo? Beh, intanto se riescono a farlo in un anno sono contento, io non ci ho ancora visto niente, ogni tanto ci passo. No, trovo che sia, come tutte le altre cose, rimane una roba nel deserto, rimane lì e non si sa cosa c'è. Trovo sensato, per esempio, l'idea dell'ospedale militare, cioè rimettere a posto l'ospedale militare piuttosto che l'ospedale che c'è già, cioè tutto sommato, aveva un'idea, cioè centralizzare l'ospedale, perché adesso va tutto bene, però se parti da Porto Venere piuttosto che dalla parte di là, per arrivare all'ospedale di Migliarina, dov'è a Coso, è il giro del mondo, cioè averci… Però gli ospedali in città ormai non hanno più senso. Lo so, non c'hanno senso, ma se te ti senti male e stai qua, all'ospedale ci metti un minuto, è sempre meglio che andare a finire là in fondo, tanto per cominciare. Non è che devi dire lo rifacciamo. Cioè io ho un'idea che tipo, dopo che ribadisco il concetto che non si può, chi va allo stadio, a Spezia, e prende la macchina, se non viene da fuori è un idiota. Io lo dico con tutto il bene del mondo, perché è centrale, cioè l'unica cosa di buono che puoi avere uno stadio in centro è che vai lì a piedi. Oppure prendi, non so, capito, i pullman in giro, apposta che vengono lì, fanno la fermata, ripartono e lì non ci deve essere niente, cioè le strade devono essere libere. Cioè sei a Spezia, sei a Capità Milano, Las Vegas, cioè sei in un posto dove te a piedi, cioè ci metti 5 minuti di ore, io vengo a piedi, ci sono venuto qua dai bugi, diciamo avevamo messo 8 minuti, cioè 10, quella ci metto e siamo in piazza. Però oltre ai tempi lunghissimi, per il nuovo ospedale, però ci sono due fatti importanti che hanno legato l'ospedale, cioè la sanità e il porto, le tangenti. Abbiamo vissuto quest'anno, lo scorso anno, anche Piazza Verdi, anche un po' Piazza Verdi, con tanto di patteggiamento, quindi va detto. Quindi vuol dire che insomma siamo una città non soltanto sporca, cioè gli espedini che non riescono. Siamo una città come le altre città, non ci manca niente, cioè noi pensiamo che... Non ci manca nemmeno la corruzione allora. Ma no, ma rimanendo nel piccolo, noi pensiamo che ci conosciamo tutti e siamo tutti bravi fanti e cosa vuoi fare così. Poi ci sono anche qua le cose che non funzionano, quindi la guardia va sempre tenuta alta come sempre, a un posto così piccolo è così. Ora, io del porto non ho più saputo niente perché non... Alcuni hanno patteggiato... Vedi, però dove patteggi vuol dire che qualcosa è combinato, no? Se c'è qualcosa di patteggiato, ribadisco Piazza Verde, ribadisco questa roba qua, diventa brutto anche capire come funziona. Ora, se rifanno per esempio Piazza del Mercato, speriamo che sia completamente, no? Come si diceva, una roba limpida, una roba fatta con attenzione, con tutto e soprattutto che ci sia un'idea, perché io ho sentito parlare di roba con la coda di pesce, cioè delle cose già da follia, da Disney. Ecco, ma perché pensano sempre così alle opere faraoniche che poi non vengono mai fatte? Ti ricordi il fronte a mare doveva essere una cosa veneristica? Io non lo so, però, se uno vuole fare Piazza del Mercato fatta a pesce con la coda da una parte e la testa con l'altra, voglio dire, è una patologia che ha l'architetto che ha paura delle morte, vuole lasciare un segno. Ecco, un segno lo lascia, ma lascia una carregata mortale, cioè, lascia il segno di quanto sei carregata. L'architetto pesce era arrivato in città, tra lo ricordi, aveva disegnato questa spiaggia alla diga foranea, aveva immaginato una spiaggia, poi Federici se n'era innamorato, poi però, come tutte le cose di questa città, era rimasta a metterla morta. No, no, ma io potrebbe essere un'idea quella della diga foranea, io non so poi con le mareggiate cosa succede con le maree, cioè io ribadisco, sono più preoccupato, per esempio, sono stato alla festa, non so, dello Spezia, piuttosto che una roba così, cioè il giorno dopo, io parlo di Spezia, potrebbe essere San Giuseppe, come potrebbe essere, dove arrivano le bancarelle, anche lì sembra una cazzata, li parlo sempre ai vigili, ma, cioè, il giorno dopo, io porto la nipote ai giardini, porto la nipote ai giardini dove sono i grilli, c'era lo stand di una friggitoria qualcosa, uno che faceva non so che cosa, il giorno dopo c'era una pozza d'olio in tutti i giardini, perché questi qua hanno scaricato i bidoni dentro le griglie che poi vanno in mare, ora, uno dovrebbe andare lì e dire, ti diamo, vuoi la concessione per star qua due giorni, ci dai 100, 1000 euro, quello che è, noi arriviamo, il fusto ce l'hai vuoto, prima di andare via, torniamo e quando è pieno, lo vediamo pieno e però te lo carichi in macchina e va scaricato dove va scaricato, non è che diventa un troiaio tutto, uno si gira e butto 30 litri di olio, 50 litri d'olio dentro, tra l'altro per terra, sporco, poi chi lo leva più l'olio di lì, cioè, chi ci va, ma chi ci va, quindi c'hai ai giardini, in un posto che dovrebbe essere il fiore di occhiello della città, tutte quelle cose lì, e sta roba, però, prima della diga foranea, voglio dire, se c'hai un mare di merda, la diga foranea, te la attacchi, voglio dire, se c'hai tutti i sacchetti che vanno in mare, se c'hai tutto lo sprugola che scarica, tutta la merda che butta, se la gente continua a buttare tutti i sacchetti dentro sto canale, che tanto occhio non vede, che sembra siamo tornati un po' all'idea degli anziani quando buttavano tutto nel canale, che però buttavi nel canale c'era niente da buttare, perché mia mamma, quando stavamo alla grotta della Madonna, quelli poveracci che lavavano le scale, le bucce di patate le davano ai conigli, i tocchi di legna dei platò, delle cassette le bruciavano alla stufa, cioè era tutta roba… I rifiuti erano minimi… Era una roba quella, quello che non potevi lo sotterravi nell'orto perché faceva grassina, c'aveva un sacchetto di nail, non lo chiudevano che sembrava un oracolo, non filavano dentro le cose che venivano fuori, cioè quindi per assurdo erano quasi più saggi i poveri di tutti questi scienziati, però ora come ora c'è questa idea del ritorno al lancio del sacchetto, io proprio l'ho visto fuori dalla finestra, questa è un'ambulanza che ci sta venendo a prendere per dirci che l'ospedale sta quasi finendo, però il lancio del sacchetto va punito severamente, le macchine messe a cazzo campana quando gioca allo spezia vanno levati. Ma te lo vedi il lancio del sacchetto? Io l'ho beccato a casa mia il lancio dei sacchetti, io ho un video, non ve lo faccio vedere perché si vede bene una, e una signora, io questa qua forse l'ho già anche raccontata, un giorno vengo giù, becco una signora che fa retromarcia verso il giorno dopo Natale o il giorno dopo Capodanno, vengo giù col cane e passa, quelli che non tirano sulla roba ai cani dovrebbero smontargli una gamba, dovrebbero portargli via il cane come fanno con i figli, perché non sei in grado di mantenere un cane, e becco una signora che retromarcia, tutta bella, bionda, con una sta pelliccia, una signora per bene, arriva giù e apre il cofano, ma davanti all'entrata del montagna, cioè non c'era niente, vedo che va più vicino al muro e dico la fa sta qua, e poi scende e tira giù un sacco, io sono andato lì e ho detto boh vorrà una mano, poi era un sacco di rumenta, ma un sacco di rumenta grosso così, l'ha messo contro il muro e riparte, sono andato con il telefonino, gli ho fatto un video, ma poi sugli estracomunitari che buttano la rumenta, e sta qua mi ha risposto, non vi dico cosa mi ha risposto, che siamo in fascia quasi protetta, mi ha detto più che al porco lei a me perché si è trovata così, ho fatto questa, ho trovato un vigile, gli ho fatto vedere il video, mi ha detto mandamelo, l'ha beccata, poi si è scusata anche con me, non sapeva neanche chi era giustamente, fa bene, però se uno arriva tutta per bene, una nonna cazzerona, che arriva… L'hai fatta però indirittura per i vigili e… L'ho fatta vedere, il vigile l'ha beccata, me l'ha detto, mi ha detto guardi sei scusata anche con lei, cioè ma bisogna fare così, non è che non bisogna fare in un altro modo, l'unico modo è mettere delle… io una volta, adesso mi autodenuncio, ho pitturato, infatti ho la fortuna che sto vicino alla piramide, quindi tanta roba che non riesca a buttarla via… La porti alla piramide… Quando mia moglie stufa mi dice porta tutto di là, no? Quindi avevamo pitturato da qualche parte, c'erano due o tre secchi piccoli, di… ce ne sono andato di agosto, di luglio agosto, e a un certo punto era chiusa, la piramide era chiusa, non so se era per ferie, non ho capito… Era chiusa, io rimango lì davanti, però mi sentivo, come si dice, un modello perché portavo la roba lì, e siccome era chiusa, fuori c'era una montagna di roba, io ho portato… Mi avevo messa lì anch'io… Hai aumentato la montagna… No, ma era quella della piramide, capito? Cioè era quella della piramide, quindi ho detto sta mettendo la roba lì, visto che è chiusa, poi butteranno tutto dentro, poi ci ritorno a portare… Seguono tagli la roba dell'orto, gli scoli, tagli un po' di rumenta… Porto giù sta roba qua e gli dico… Dì, ero venuto l'altro giorno a portare la roba, era chiusa, l'ho messo due… Ma come l'hai messa in davanti? Ci sono le telecamere, cazzo… Cioè mi sembrava di essere in… non in torto, mi sembrava di fare una roba per bene, perché l'ho portata lì, era chiusa, però ce n'era talmente tanta fuori… Si vede che ha un periodo che non ci sono… Passerà anche una barata… Ma le telecamere ti hanno perdonato? Senza… ci ha avuto culo probabilmente, però mi sembrava di… Quindi mi autocostituisco, sono già passato i vent'anni, quindi non è più… Però… no, non ero vent'anni… Ti avrebbero subito riconosciuto… Chi è quel signore lì che ti appoggiai? Anche io sono stato lì pensando che si potesse fare quella cosa lì perché c'era già tutta la roba, ma non il canale, però davanti a loro pensavo che poi sei lì fuori, la prendono, la rimettono lì, nei giorni che l'ha chiuso, metti… Invece non si fa… anche abbiamo spiegato, ho capito tutto, non ce l'ho andata… Partivo per capire l'umido, quella roba lì, la plastica va tagliata, le cose… Ho messo 18 anni, c'è mia moglie che mi mette in riga, mi dà i sacchetti, io vado come degli anziani… Dario, siamo quasi in fondo… Siamo quasi in fondo… Che giudizio dai della nuova giunta? La nuova giunta, guarda, l'abbiamo parlato fino adesso, la nuova giunta… Dico, non conosco ancora i personaggi 1 a 1, però quello che devo dire è d'anziano ormai, perché noi siamo anziani, cioè parlo per me… Cioè io sento dire in giro, poi non so cosa… Cosa dicono nel tuo bar di Rebucco? Qual è il commento? Nel bar… ma più che nel bar, la gente in giro, anche io ho sentito gente che ha votato questa giunta, quindi gente alla larga, dalla destra, che però c'è un'idea di pulizia un pochino più attenta, che sembra una balla ma sono quelle cose che poi fondamentalmente quando cammini ti fanno incazzare, che c'è un pochino più di attenzione a questo tipo di roba qua e che… Ti dico, poi non so le grandi cose che faranno, come andranno e come saranno, poi queste cose qua le valuti non tanto da… anche dalla pulizia della strada, da quanto fai passare i cassonetti a portarvi la roba. Però soprattutto, a parte questa roba che poi nel 2000 levano tutto, diciamo che avevamo quasi imparato a mettere la roba, però giustamente mettono questi cassetti, i cassonetti quelli… Intelligenti, quelli intelligenti. Però non è intelligente quello che butta la rumenta, il cassonetto può essere intelligente quanto vuoi, ma se sei abbinato te, quando butti la roba e non c'hai la scheda perché non paghi la rumenta, perché non te l'ha data alcun perché sei tu fuori, quindi diventerà un altro lancio di rumenta così. Però li vedremo secondo me davanti al progetto di piazza del mercato, questo tipo di operazioni qua. Ecco, mi sembra di un po' di accanimento, se no io non voglio parlare bene di nessuno, però un po' di accanimento sulla famosa movida spezzina. Cioè, ora ribadiamo al concetto, se noi parliamo di numeri di turisti e diciamo che sono 125 mila quelli che hanno soggiornato, invece che 150 mila piuttosto quelli che sono, e è un'importanza strategica anche di economia, non puoi dire ai bar, chiudete alle nove e mezza, dicono stupidaggine piuttosto che, solo perché c'è o il grattacielo di turno, non so che comitato fanno, o quell'altro di, o chi c'è di così bestialito. Io faccio due... Cioè, se uno si alza la mattina alle sei e va a lavorare e tutta la notte c'è la gente sotto il portone, io gli tiro l'acqua bollente, cioè non so come dire, anch'io non è che sono di quelli che... non ho questa tolleranza per... Però se sei in centro e vivi in mezzo ai ristoranti, e vivi in mezzo ai bar, vivi in centro, se no devi stare a Scurtabò o a Pignone, dove stava mia mamma, e non c'è questi casini qua, con tutto il bene del mondo. Cioè, Roma però nel suo caos, cioè io, cioè vai a Campo dei Fiori per andare a mangiare, c'è gente che va in casa nel portone e passa in mezzo ai tavoli della gente che mangia fuori. Cioè, vale anche di più l'appartamento perché sei a Campo dei Fiori, quindi spezia. Se ci fosse la morte di una volta, dove non c'era nessuno dentro le vie, dove adesso sono i ristoranti... Quando tu dicevi che l'unica cosa che funzionava era al banco... Al banco, ma era una bella idea. È cambiata la città. È cambiata sì, però adesso c'è questa idea che chi fa le cose di sera sembra che sia... va criminalizzato. Invece, secondo me, gente che investe per fare una roba, giovani che si mettono insieme per fare... Cioè, c'è tutta la zona di dietro sotto l'ospedale. Io capisco che c'è casino. Però dal nulla totale, dove la gente ci andava a fare la pipì dietro e c'era solo puzza quando passavi, c'hai una roba dove... C'hai davanti quelli dei ragazzi dello Spezia hanno aperto il baretto. Ce n'è uno lì. Quello a fianco ai ragazzi che hanno aperto i perprimi del distro, che c'è il mondo lì, che è diventato come il vecchio bar Roma. Sì, sì, sì. C'è un momento che senti il brusio da quando sei in via Prione. Si sente già... Però è un brusio sano di gente che sono le 8 di sera che prende più gli aperitivi. Poi se subriacano, tirano la roba e tutto, per l'amor di Dio, cioè no. Però se è gente che prende gli aperitivi con i bimbi, con le cose e tutto, tant'è che a fianco hanno aperto l'altro bar. C'è un altro baretto che era lì che non faceva nulla. Ha ricaduta. Ha messo in piedi 4 o 5 robe le ragazze che hanno aperto all'entrata di delle Triglia Prione. Adesso a fianco, di fronte alla Pia ne hanno aperto un altro. Cioè, si è creata una roba di zona aperitivi, come potrebbe essere da parte dei Navigli di Milano, di quella roba lì. Che è quella roba lì? Ora, uno che sta lì... Io capisco che... Però non puoi pensare che la gente non ci vada. è così e va in centro. Ora, se te mi dici dopo le 11 io voglio che sia tutto chiuso, c'hai ragione e chiudi e fai... e fai quello che ti pare. Però se c'hai fino alle 9 fanno un po' di casino perché bevano, sono fuori, è come se la gente uscisse dal Civico. Ci andassi tutte le sere al Civico 50 mila persone e quando escono si fermano a parlare sulla... Cioè, non è che questi qua dicono facciamo chiudere il Civico perché... Senti, un'ultima cosa. La passerella su Viale Italia. Tu la vedi? La passerella su Viale Italia non so ancora cos'è. Ah, quella che passa. Sì. Quella trovo geniale la passerella su Viale Italia. Cioè, io quella che hanno fatto... Tipo i socialisti negli anni 80. Beh, i ferrotubi. Certo. La passerella intanto leva un pericolo che c'è che è così. Io non farei il passaggio sotto perché se ci avessi le palanche lo farei. Interare le Viale Italia. Interare le Viale Italia. Si può far tutto. Però se non c'è palanche è come Piazza Verdi. Cioè, se la faccio solo per cui Piazza Verdi mi gira. Se tutti quelli che stanno nei giardini si trovano davanti dalla vista mare, a me mi va bene. Pagano loro. Tanto i più ricchi stanno lì. Perciò, se vuoi fare di pagare a loro, lo facciamo pagare a loro e lo fanno. Non c'è nessun problema. Se no fai un ponte che unisce... Io addirittura l'avrei fatto fare già al ponte quello che va... Mirabello. Mirabello. Cioè l'avrei fatto arrivare di qua con i suoi passaggi, come adesso a New York, diciamo una... Cioè l'ex linea della metropolitana, quella che ha rifatto tutta che si cammina, ti cammini in mezzo, sei alto e cammini in mezzo dove passava la metropolitana. Ha fatto una roba meravigliosa con fiori, roba tutto pieno di gente così che attraversa il centro. E c'hai queste uscite che scendono, quindi potevi fare quel punto lì dove scendevi dal Molo, scendevi da... Come si chiama? Dal Centrallende. Fai quelle cose lì e avevi una situazione di... Il proseguimento di via Diaz sarebbe stato lì. È la stazione via Prione, cosa che ti porta direttamente al mare. Ora, detta così, io poi, sai, non ci capisco una mazza, diciamo tante, ma... Però l'idea è quella. È una buona idea. Se la fai anche lieve, che sale e che di là riesci a scendere e tutto, se fai anche una roba moderna, nuova, ci starebbe anche bene. Non sono contrario a quella roba. Io sono per... Non so perché piazza davanti a lì a... Come si chiama? Dal Grattacielo, davanti a Zara, l'ex Uppim. Piazza Beverini. Piazza Beverini. Piazza Beverini. Noi non abbiamo roba storica. Infatti, una volta ho visto un gruppo di turisti che si fermava davanti a Zara e questa quale gli diceva qualcosa, gli ho detto a uno, gli starà dicendo che una volta c'era Uppim, perché... Roba bella, però... Per esempio, quella piazza lì, che non mi ricordo, piazza Beverini, cioè io non capisco ancora perché con quei quattro alberi, mezzi morti che ci sono, non arrancano tutto, chiudono, fanno cinque piani sotto terra. visto che l'hanno fatti anche qua, e il mondo sotto terra, anche se c'è l'acqua, fa tutto, se no... Spezia avevano sempre detto, si ma che l'aigua, no? Adesso siamo nel 3000, basta, l'acqua anche se c'è... Fanno Copenaghen, fanno tutti i parcheggi sotterranei. Quella piazza lì, invece, sarebbe meravigliosa se tra via Biassa e l'altra, una entra dentro il parcheggio, l'altra esce dal parcheggio, quindi Corso Cavour non avrebbe più... E l'avrebbe completamente vuota, sarebbe un'altra piazza, anche da lasciare solo come piazza, levando le macchine, diventerebbe una piazza meravigliosa al centro della città, e così... E poi io spero che riesca questa... E tanto levi le macchine di in giro, perché c'è questa corsa spasmodica a cercare il parcheggio, che la follia, ribadisco sempre questo concetto, che se uno si mette sul muro dell'arsenale di sera alle sette e mezzo e guarda di qua, c'è il buio e un mondo, e di qua 30.000 persone che cercano il parcheggio, lui dice, cazzo no, ma perché le macchine non le mettiamo qua? Cioè, ora l'arsenale, con tutto il rispetto del mondo, se il comune riuscisse nell'operazione... È un'operazione che cercano di portare in porto. Se riescono a fare questa... Io non capisco cosa ci vuole per fare questa operazione qua. Tanto la marina è italiana, cioè siamo tutti nella stessa roba, pagati anche con le tasse nostre, fanno quello che devono fare bene, lo fanno indipendentemente dal fatto che ci metti 500 macchine in un punto dove non c'è niente. L'arsenale è obsoleto dal punto di vista della grandezza, è come aprire una fabbrica... Cioè, non li fai più così, è come la Fiat a Torino, cioè le hanno riconvertite le zone. Quindi fai questa roba qua, sul ponte di... o ne apri un altro addirittura solo per le macchine, che entrano e escono, e ti... Cioè, hai risolto un problema di parcheggio? È straordinario, ragazzi. Cioè, voglio dire, fai una roba dove riesci a spendere 10 euro al giorno lasciando la macchina una giornata e notte, e secondo me hai fatto bingo. Cioè, hai reso la gente meno incazzata, più serena, più tranquilla... Grazie, Dario. Con questo auspicio e questo augurio di Vergassola, chiudiamo questa trasmissione che è stata molto particolare, ma non lo sappiamo sempre che quando invitiamo, e lo ringraziamo ancora... Che non parlo... Sempre disponibile, i nostri spazi si restringono, quindi più che un'intervista diventa un monologo piacevole perché lui ci regala sempre uno sguardo disincantato, corrosivo, brillante della città. Lo ringraziamo ancora, e a tutti coloro che ci hanno seguito, io e il collega Riccardo Sottani ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Buona serata. Solo una cosa dico questa. Posso? Prego. Se chi ha voglia che veda la trasmissione, ha voglia mettendo qualcosa, un sottopancia, un qualcosa... Sulle cazzate che abbiamo detto, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, e fare una sorta di... Sondaggio. Sondaggetto. Noi siamo portatori di sondaggi. Trasferiamo la richiesta alla regia. Certo. Sondaggetto. 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 Sondaggetto.